Vorrei innanzitutto complimentarmi per questa iniziativa del Centro Servizi del Volontariato di Vercelli, per questo laboratorio Oltre la Crisi, perché è un'iniziativa che sicuramente è andata oltre, non soltanto oltre la crisi, ma oltre anche il normale modo di fare conferenze, di fare formazione, perché di solito i convegni si limitano a far emergere determinate problematiche, ma non a dare soluzioni concrete che poi si possono anche realizzare. Il grande merito è anche quello di proseguire poi oltre il convegno nella realizzazione dei progetti che saranno esaminati e presi in considerazione e quindi saranno poi anche, speriamo, proprio realizzati anche in tempi brevi. Il Comune di Vercelli ha ritenuto quindi di collaborare e partecipare a questa bella iniziativa, sicuramente l'intenzione è anche quella di partecipare come utenza, perché in questo convegno c'è la possibilità di confrontarsi con esperti, oltre che con facilitatori e quindi c'è la possibilità di acquisire anche tutta una serie di conoscenze che a noi amministratori e alle persone che lavorano nell'ambito delle politiche sociali del Comune di Vercelli possono essere molto utili per la realizzazione dei tanti progetti che noi elaboriamo molto volentieri.